Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi è mercoledì quindi questa volta davvero è Species Field Guide Ebbene abbiamo diciamo una Species Field Guide molto molto bagnata perché adesso parliamo del Mosasaurus, andiamo a vederlo insieme The Mosasaurus hunts near the surface of the water, utilizing the power of a large paddle-like tail to quickly propel itself Unleashing a sudden attack to fatally incapacitate anything it could sink its teeth into Bene bene molto molto bello molto molto veloce non ho detto niente di troppo particolare ma direi di analizzare perché ho visto una cosentina molto interessante Soprattutto già si vede da questa scena qui Bene la cosa che vi volevo far notare era che se notate qua dietro la parte diciamo che si vede qua dietro è di una nuova zona Anzi l'attacco diciamo che penso che l'abbiamo già vista dovrebbe essere quella che hanno detto che è temperata se non sbaglio come zona Quindi forse è una zona costiera e replicato Eccolo qua il Mosasaurus che esce dall'acqua torbida Anche se c'è in realtà è blu più che torbida è tipo profonda Qui si vede appunto una bella vista da una delle gallerie panoramiche acquatiche chiamiamole così Lì si vede il coso dello squalo, il palo che mantiene appunto lo squalo Qui si vede che gira e penso che questa sia l'animazione di quando si prepara per uscire dall'acqua e attaccare lo squalo E poi infatti si prepara ed eccolo che salta Bello però è sempre color giallino l'hanno fatto Non è proprio quel blu che si vede quindi penso che sia un'altra skin questa Bene 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 Però le cose interessanti non sono solo qui Ma si hanno anche sui forum appunto di Jurassic World Evolution Che io mi dimentico sempre di controllare Ma in realtà dicono cose abbastanza interessanti Andiamo a vedere Ok eccoci qua Allora ragazzi Ovviamente hanno detto che la scorsa volta hanno fatto vedere Chiangiosaurus Che spero vi l'ho detto bene Questa volta si parla del Mosasauro Mosasauro era un carnivore del Taddo Cretaceo Ed era uno dei più grandi rettili marini del tempo Anche se di grandi dimensioni Sarebbe stato in grado di muoversi in acqua con relativa facilità Grazie alla sua lunga coda e alla grande pinna verticale Che diciamo appunto c'ha sulla coda direi Se vedete appunto qui c'ha questa pinnetta qui Che avrebbe reso il movimento attraverso l'acqua un processo molto più veloce È interessante notare che il Mosasauro non è in realtà un dinosauro Ma lontano parente delle diciamo lucertole di Komodo Quindi i draghi di Komodo E sì appunto è vero Il Mosasauro non è parente dei dinosauri È sempre un rettile Però è più stretto ai draghi di Komodo Diciamo a questi rettili del genere Con mascelle distintivamente lunghe Piene di denti acuzzi appuntiti Ideali per afferrare le prede E diciamo che aveva una mascella a doppia cerniera In che senso? Se voi notate Qua non si vede Ma tipo nella parte dove il Mosasauro prende lo squalo Si vede che dentro la bocca Ci sta un'altra fila di denti Tipo a forma di V dovrebbe essere E quella fila di denti veniva usata per tenere ferme le prede Appunto questa è una cosa che per fortuna È corretta Non l'hanno inventata loro Quindi appunto in Mosas davvero c'era questa mascella fatta apposta Per tenere la preda Il Mosasauro è un formidabile predatore Diciamo all'apice della catena alimentare Qualcosa che probabilmente ricorderete Dal diciamo il feeding show Quindi lo show del pasto di Jurassic World Il film I Mosasauri sono generalmente molto solitari E preferiscono restare appunto nella loro compagnia unita soli Quindi non ci dobbiamo preoccupare Di fare in modo che ce ne siano più di uno per l'habitat Dobbiamo solo fare attenzione Che hanno bisogno di un bel po' di spazio dove nuotare E quindi bisogna comunque considerare questa cosa Quando si costruisce la laguna Ovviamente dobbiamo fare una bella laguna grande Abbiamo visto che in alcuni gameplay Il Mosasauro richiede davvero tanto spazio E ci sta perché effettivamente è enorme Quindi direi che è normale Si pensava che cacciassero vicino alla superficie Così avrebbero mangiato essenzialmente tutto quello che i loro denti afferravano I Mosasauri nel vostro parco Diciamo che erano una bella di trapescivora Ma possono essere aggressivi Dobbiamo fare attenzione Quando cerchiamo di metterli insieme a altre specie Questo pure l'abbiamo visto Il Mosasauro è meglio che sta da solo Massimo Ma direi anche che è meglio evitare Con qualcun altro della sua specie Perché appunto comunque preferisce restare solo lui nella laguna Perché abbiamo visto comunque per esempio Ci stava un filmato Che il Mosas si mangia i Plesiosauri Penso che ve lo ricordiate Ne abbiamo già parlato pure Quindi appunto è un animale solitario Ma io mi chiedo una cosa che ovviamente non hanno spiegato Mi chiedo Se tipo noi non soddisfiamo i suoi requisiti di spazio Perché alla fine ci dobbiamo preoccupare solo di quello Direi con il Mosas Magari il pesce Ma poi quello comunque è più facile da gestire rispetto allo spazio Chi sa come reagirà il Mosas Cioè uscirà fuori dal recinto Cosa farà? Perché non sappiamo come interagiranno con il mondo esterno Se saranno solo praticamente chiusi Nella loro laguna a sguazzare Anche se appunto non gli piace l'ambiente in cui sono Quindi voi chi sa come verrà gestito il fatto Dei requisiti dell'habitat E se riusciranno a rompere la loro laguna E scappare da molta parentesi Perché effettivamente fuori dall'acqua Penso che il Mosas non avrà vita facile Quindi boh Bene ragazzi questo era tutto per questo video Vi ricordo che sotto in descrizione trovate il canale di Discord E vi consiglio di entrare Perché non parliamo solo dei dinosauri E tra l'altro è un server che continua a crescere Infatti oggi abbiamo creato una sezione Dedicata a Jurassic World Alive Che praticamente è Pokémon Go per i dinosauri Quindi vi consiglio di entrare assolutamente Vi ricordo che appunto sempre sotto in descrizione Troverete il link per la mia maglietta Se vi interessa acquistarla E niente ragazzi vi saluto E ci vediamo come sempre ad un prossimo video Ciao Ciao Ciao